Le mutanti di mia nonna Ma le mutanti di mia nonna Ma scrive la tale, dico? No La mamma che appareva è nata nel 1908 Solo 114 anni, va bene? Tutti insieme, finiti! Finiti! Prima prende in mano Signore incredibile Perché si sono trasformati In due spread di urlato Un applauso! Non si va, va bene Non si va Ciao, chibi Spengiti Guardate, bimbi, non mi brucio perché è perché sono un attista Guardate, non mi brucio Ma 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 pot returns Ma non mi brucio Ma non mi brucio Ma non mi brucio Ma non non mi brucio Ma non mi brucio Perché è un attacco Ma non mi brucio Scoperto Ok, vi posso salvare i miei papini, vabbè, non c'è troppo. Ma buttai l'ordine per favore. Quindi saldiamo mia madre, l'ordine di vita. Mi sa che non... che sto lavorando. Mi giociti sempre, ciao. E' un'ordine. Mi spavolo bene. Ma, visto, senti un po' perché ti sei arrabbiato. Per dire. Ma si, per favore. Guarda, perché è qui, è bello che c'è un problema. Ma fa favore. Guarda. Guarda, che fa? Ti è piaciuto, che tanto. Guarda, vuoi uscire. Esci, per favore. Esci. Signori, un po' di malarocce. Guarda, qui. Ci sono un minuto di bravo. E non c'erano di labi, me. Ah, ah, ah. Perché sei fragile come Cartagine. Tutte le volte che sono insieme a te. E' come un evento rivoluzionario. Uno scisma d'oriente, il collo di Cartagine. Tutte le volte che ti dico ti amo. Soltanto per te, il mare muove le mare. Il tempo sposta le acce. Te scrive nuove pagine. Quando sfigo la tua mano.